E' in programma il 18 e il 19 maggio, l'edizione 2019 di Adotta un Monumento. Oggi l'assessore alla scuola del Comune di Salerno, Eva Vossa, ha presentato l'iniziativa che coinvolgerà numerosi istituti cittadini. Anche quest'anno gli studenti delle scuole di Salerno saranno dunque impegnati in veste di guide alla visita dei principali monumenti e siti storico-artistici della città. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Erkemperto. E' un'esperienza straordinaria per i ragazzi perché diventano ciceroni per due giorni praticamente, a illustrare le bellezze, i tesori della nostra città che molto spesso sono sconosciuti proprio ai salernitani. E quindi l'invito è a tutti di andare, di partecipare e di farsi guidare dall'entusiasmo di questi bambini che hanno studiato praticamente tutto l'anno con la guida, come dicevo prima, dell'Associazione Erkemperto, in particolare di Paola Valitutti, della dottoressa Paola Valitutti e degli insegnanti di questi bambini, che spesso fanno la guida anche in lingua straniera, anche in inglese, quindi molto bello. Sono guide gratuite e l'invito è proprio quello, ripeto, anche per motivarli questi bambini perché conoscere la propria storia, la storia della propria città è importante per tutti, in modo particolare per i bambini, per l'acquisizione di un orgoglio di appartenenza, ma anche per acquisire quegli elementi che sono fondanti per la tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e storico del proprio territorio.